Vi ricordate di lui? Jeffrey Epstein. Non si è ancora ucciso. Lui è ancora vivo. Il mio forte sospetto è che sì, proprio così, che sia vivo e vegeto da qualche parte, che la sua morte è stata simulata. Prova a cercare le foto del suo corpo. Sono reperibili su internet e una volta trovate questa non è l'immagine. Vedrai qualcuno che non è morto. Una breve recensione su Jeffrey Epstein nel 2008 fu condannato per ogni sorta di crimini sessuali, come richiedere massaggi erotici da parte dei bambini. Roba molto, molto seria. Epstein era un insegnante di scuola superiore in una prestigiosa scuola primaria privata qui a New York. Si chiama la Dalton School e questo risale fino agli anni 70. Lui era un insegnante di matematica e scienze alla Dalton School, ok? Epstein non aveva una laurea. In generale te ne serve una per, beh, essere un insegnante, per ottenere un certificato di insegnamento. Ed è qui che la cosa diventa molto strana. L'uomo che lo ha assunto alla Dalton School si chiama Donald Barr. Lui era il defunto padre di William Barr, il procuratore generale. Sì, quel tizio. Non è pazzesco? Non sto insinuando che ci sia qualcosa. No, non sto insinuando nulla. Sto solo sottolineando che questo è assolutamente, completamente strano e che tutte queste persone ultra importanti gravitavano attorno a Jeffrey Epstein, il principe Andrea, Bill Clinton e ora il direttore della CIA. È davvero pazzesco. E sapete? A loro piace interpretare questi video. Ebbene anche Donald Trump era associato con dei suoi amici. Dovete andare molto 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 indietro. Molto prima che tutta questa roba venisse alla luce. E Donald Trump, alla fine, ha avuto la sensazione che questo tizio non fosse una brava persona. Tagliò tutti i legami con lui, anni prima, che fosse arrestato ed è per questo, per questi indicibili crimini. Lui ha quasi sempre ragione. Anzi, lui ha sempre ragione.